Ehi, buongiorno professore, in questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di precariato, ma ancora una volta gli insegnanti precari lamentano di non avere gli stessi diritti dei colleghi di ruolo. Sì, in effetti durante l'estate si è parlato molto di precariato, in particolar modo del piano straordinario di assunzioni, la fase 0, A, B e C e tutto quello che ne consegue, però questo fatto, questa importanza data al piano straordinario ha messo un po' in sordina due altri aspetti contenuti nell'E107, improbiamente chiamata la buona scuola, che si inseriscono pienamente nel solco del passato che ha portato l'Italia a essere condannata dalla Corte Europea per una discriminazione nei confronti di lavoratori che fanno lo stesso lavoro ma con diversi diritti. In particolare nella 107 ci sono due aspetti di natura economica che vedono totalmente esclusi una buona parte, una buona fetta della categoria ai docenti precari. In particolare la carta del professore, che è il famoso 500 euro che il ministro ha detto che per quest'anno verranno inseriti in busta paga ad ottobre, che dovranno consentire appunto, dovranno essere giustificati entro agosto, l'anno prossimo, per attività di formazione culturale e professionale, i docenti precari non avranno un diritto, non hanno accesso a questa carta del professore, a questi 500 euro. E il Murri insiste a non rispettare le direttive europee? Sì, pone il fianco appunto ad altre azioni legali che sicuramente ci saranno, e non soltanto per questa carta del professore ma anche e soprattutto per leggi, in pratica nessun docente precario potrà avere accesso al cosiddetto bonus di merito, cioè nessun docente precario è meritevole, è bravo, quindi è come se dire che tutti i precari sono docenti di serie B, quando sappiamo che molte attività scolastiche si basano sulla loro presenza, sulla loro capacità professionale, sulla loro competenze appunto. Invece questi docenti sono totalmente esclusi dal bonus, che è molto discusso per vari aspetti, ma il primo criterio che viene messo già nella legge è che per poter avere accesso a questo bonus per il merito bisogna essere docenti di ruolo. Quanti sono questi insegnanti esclusi dal bonus? Sono più di 100.000 anni, molti loro hanno esperienza anche decennale, infatti i vari ricorsi che stanno facendo, i rimborsi per quanto riguarda il scatto di sanità, già riconosciuti anche a livello italiano, riguardano gente con 10-15 anni di servizio. E' inaccettabile appunto che il nostro contratto... Ma scusi, il sindacato cosa fa? Qui, grazie a una sentenza della consulta, dovrà essere riaperto dopo ormai 7 anni che è chiuso, anzi l'ultimo incontro, l'ultimo contratto firmato effettivamente è del 2007, quindi sono quasi 10 anni, e abbiamo detto che per quanto riguarda il precariato la nostra piattaforma sarà incentrata su un principio molto semplice, stesso lavoro, stessi diritti, stessi doveri. Non ci basta adesso, non bisogna più discriminare tra docenti serie A e serie B, siamo tutti docenti e dobbiamo essere considerati tali a prescindere dal tipologio di contratto che noi abbiamo, così come dice l'normativa europea. Grazie professore per la sua disponibilità da Gilda TV è tutto, arrivederci. Grazie. Grazie.